qui c'è una cosa che fa così e questo deve seguire allora intanto qui questo viene in avanti e poi va in dentro questo va così e poi qui sparisce praticamente e adesso ci vuole questa riga azzurra che poi è proprio una costola che fa così va adesso dobbiamo fare un po di pulizia perché io devo capire se questa barca c'è un senso che vi sembra a voi a me mi sembra che insomma punti esperienza adesso si devo trovare secondo me devo prendere un pennarello a trovare un pennarello oppure una penna, vediamo se una penna a viro funziona in modo che pulisco tutto allora così a occhio mi sembra che questa spancia troppo ecco qua visto che ho smesso di guardarla per un attimo allora vediamo un po se riesco a cavare un po di linee utili adesso pulisco un po' il disegno con la penna faccio niente di più che questo perché questo sale va giù qui c'ha questo e poi così vediamo che diavolo ho combinato dopodiché qui si allarga viene giù così grazie mille grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Le altre attrezzature non le faccio Continuiamo domani